ciao a tutti benvenuti nel Vodouan Gorla mi trovo nella nostra sede di via asiago 51 presso il centro la sfera sede dei nostri corsi la maggior parte dei nostri corsi per lo meno per quanto riguarda siamo a Vodouan Gorla ci occupiamo di Vovinam Viet Vo Dao arte marziale vietnamita lo facciamo da 25 anni qua nel quartiere quest'anno abbiamo festeggiato appunto i nostri 25 anni e diamo il via alla nostra 26esima stagione di Vovinam vi aspettiamo per le lezioni dal 19 di settembre potrete portare i vostri bambini a provare i nostri corsi perché riapriamo ufficialmente la stagione anche junior per quanto riguarda i corsi adulti abbiamo già ricominciato ma potete tranquillamente venire senza nessun problema quando volete a provare i corsi junior noi li dividiamo abbiamo tre giorni qua sulla sede di via asiago faremo il lunedì con 17 18 per i bambini fino ai 9 anni 18 19 fino ai 13 il giovedì faremo dalle 5 e mezza alle 7 per quanto riguarda quelli più grandi e poi faremo il venerdì sempre dalle 5 alle 6 per i piccoli abbiamo anche l'opzione su precotto presso la palestra new gymnica di via ruccellai 20 li faremo i corsi il mercoledì e li faremo dalle 17 al 18 tutte le info le trovate comunque nel nei link che scorrono qua sotto nel video vi aspettiamo vi aspettiamo portate i vostri figli a provare se volete partecipare al corso adulti venite a provare senza nessun problema potete contattarmi direttamente cellulare 347 40 46 24 oppure tutti i vari tramite i vari canali social di facebook tik tok instagram seguiteci senza nessun problema col numero di telefono potete chiamarmi o mandarmi un messaggio su whatsapp io vi saluto vi aspettiamo qua presso il nostro centro vi accogliamo sempre braccia aperte venite a provare senza nessun impegno vodongor la vi aspetta il vovinam vi aspetta e che dire buon allenamento buon inizio stagione a tutti e un grosso abbraccio ciao a tutti ciao a tutti